Ciao a tutti, se per cena volete mangiare il McChicken originale, ma la scatola è vuota perché lo avete già mangiato a pranzo, niente paura, conosco la ricetta. Per primo la pastella, farina 00, un po' di timo, a seguire maggiorana, sale certamente, un po' di scorza di limone, H2O, un po' di birra, mescoliamo per bene, 100% petto di polo italiano, passiamolo nella semola, dopo nella pastella e per finire nel pan grattato. Adesso andiamo a cucinarlo, per la salsa, palina gialla, aceto di vino bianco, iniziamo a montare, piano piano aggiungiamo a filo olio, alla fine sale certamente, ecco la consistenza giusta. E adesso creiamo la costruzione, prendiamo il pane tostato, posizioniamo sopra il nostro petto di polo, insalata, la nostra buonissima moionese, mettiamoci sopra il tetto, adesso mangiamo e godiamoci la vita, è davvero troppo buono, salvate la ricetta e io vado.